E' un fatto importante, questa è un'emergenza che riguarda tutto il Paese, che coinvolge tutto il Paese ed è un fatto importante che ciascuno, per quello che può all'interno anche delle sue specifiche condizioni relative ai processi di smaltimento dei rifiuti, dia una mano dentro ad uno sforzo delle istituzioni. A noi hanno chiesto di fare fronte a 600 tonnellate al giorno per tre mesi, complessivamente. Abbiamo verificato ciascuna regione all'interno delle proprie disponibilità darà una mano in questa direzione.